Ciao a tutti e a tutte e benvenuti benvenuti in questo nuovo video su Pokemon Versone Bianca Io sono il vostro caro Giulio, oggi registro subito dopo il video precedente e continuiamo la nostra avventura cercando di non andare nell'arba alta perché abbiamo visto che c'è un radio d'incontro altissimo Vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale e si va di venire a fare due chiacchiere o fare qualche domanda Qualsiasi, vi aspetto nel gruppo Telegram dove trovate il link di accesso in descrizione del quale trovate il link di accesso in descrizione Facciamo il giro da qua Tu sei la allenatrice? No, non mi aspettavo che mi avresti rivolto la parola, proprio a me Non sembri niente male come allenatore Mi vai a genio, prendi questa macchina tecnica Raggio scossa E a volte aumenta l'attacco speciale del Pokemon che la usa Con un po' di fortuna e la potenza della mossa può crescere progressivamente Noi non abbiamo nessuno che può imparare la giro scossa, vero? Nessuno potrebbe mai imparare la giro scossa Spacca, ta 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 E da un blocco inverti volt Ah, ok Che flash, non mi ricordavo Cauda libero, cosa fa? Volante, portagli il bersaglio in cielo Scagliaterra, il tono successivo Portagli il bersaglio in cielo Ok Raggio scossa, 50-90 Se puoi aumentare l'attacco speciale Nessuno può mai impararlo, vero? Io confido in Litwig Non credo mai nella vita che Litwig potrebbe imparare la giro scossa Però La speranza è l'ultimo a morire, si dice, no? Bene Volevo andare alla torre cedo Ma mi sono perso Ora sono bloccato qui Sempre dritto, frate Sicuramente quella è la strada Non ce ne sono altre Grigori, un giramonto Con Simsian Oh, le Sa Mesir era quell'altro Nomi impossibili da ricordare Devot Acquagetto Boom Che ne ho chiamato il livello è? 31 Ok Sfuriate Sta bene 2 E allora noi concludiamo con un cochilama Sfuriate di nuovo Più veloce lui Ma dai Boom Sacate Ciao Simisiar Brutto colpo anche Vabbè 731 706 Ok Bene 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 Intanto buttiamo su la romaca Mi ispira molta fiducia la romaca Allora io non voglio andare sicuramente nell'erba alta Quindi faremo i trick potenti A me piacciono un sacco le mosse Eh sì Mi permette di recuperare la PS Geniale no? Concordo Ed ha catturato Boltor E' carino Come implicitamente Destino di te Dicendo Hai bisogno Di un pokemon Di tipo elettro Ma devi tanto bisogno Tanto bisogno Faremo fatica Vero? Vero faremo fatica La palestra E' carino E' carino E' carino No No Ma 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 Io pensavo C'è stato andato a sciocare con la bicicletta Come un pokemon Rubino Rubino no? Va bene Ok Allora Terribolo Devot 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 Io ti farei fare Un vendita Su Wachuk Anche se da rumaca S'è la mossa più comoda Allora ti farei un conchidama Su Sfubat Da rumaca ti farei fare un martelbugno Su Wachuk Ipetilil Ti farei un ciclo assorbimento sugli leopard Giusto per Calmamente Tacco speciale app Difesa speciale app Tacco speciale app E anche difesa speciale app E per garanzia Wachuk Per zanna Devot Schiva Con chi l'ama Di lì Bene Ciclo assorbimento sugli leopard Molto bene Molto bene Molto bene E l'armadia Povero Cristo E' paralizzato E ripetiamo E' trick Conchidama Su Sfubat Martelbugno Su Wachuk E a questo punto Farai un Facciamo Un ciclo assorbimento Sugli leopard A questo punto Visto che abbiamo visto Che è andato bene E terlama Va male Molto male Che male Che mi ha fatto Accidenti Molto male Mi ha fatto Ok Che è il kukirama E lui L'abbiamo Buttato giù Molto bene Tarmaditan Tocca a te Vabbè 36 Anastro 318 D'attacco Guarda il pugno Boom E penso che Wachuk Ci saluta Molto bene Rimane solo Il cancaro Di leopard Va bene Devot 35 36 Se ho pensato Non mi ricordo Non mi ricordo E Vabbè Crocoroc Vai Vabbè Fruppetti Mi dispiace Mi dispiace un sacco E Va bene E Facciamo Con kukirama Eh no Non posso E cosa succede Se faccio così Focomugno Tipo Sugli leopard E crocoroc Farà un Patitarra Ah no Perché buio Scranocchio Non li farà molto Vabbè Proviamo Scranocchio Forse Abbastanza Per buttarlo giù Vabbè Non li faremo Molto Ma Va bene Dai A posto Solved Abbiamo anche Putato dentro Moneta Moleto Pappa Ma forse Non ho ancora Abbastanza familiarità Con le regole Ma Siano tante regole Interessanti Solo Chi può Attaccare Tutto lì Ok Devot Non si è voluto Quindi mi sa Che si evolve Al 30 6 Allora Raga La proviamo La proviamo La proviamo Ripeti No Non mi interessa Il 36 Bene Sono contento I Devot Perdi L'uso Delle mani E trasforma In zampe Per andare via Come un quadrupede Questa cosa È proprio Sbagliata Non va bene Bello Lui Bellissimo 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 Lacerazione Normale Giusto 70 100 Probabile Brutto Colpo Probabile Brutto Colpo Io toglierei Taglio Furia Non 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 c'entra Niente Con lui Non c'entra Niente Non c'entra Niente Perfetto Bello Allora Io tutto ciò Volevo farlo Perché Volevo Usare Questa Io lo so Che Voi mi dirite Aspettate I decivelli Sono tanti Di civelli Raga Sono tanti Di civelli Me ne pentirò Tanto Tanto Me ne pentirò Vero che Me ne pentirò Tanto Vabbè Dile Messo bene Dai C'è Sonnifologico Assorbimento E Energi Palla E Volendo Anche Crescita Dai Me ne pentirò Fa lo stesso Non importa Ah no Sì Sì No Pico No Questa Lol Pietra Solare Dai Raga Dai Via È il momento È il momento È il momento Non mi interessa Verdecofera Fa lo stesso Non siamo qua Per il meta Siamo qua Per finire L'avventura E va bene Così E va bene Così Momento Evoluzioni Momento Evoluzioni Eccolo Boom Bello Lilligant Molto carino Molto carino Bene Molto bene Ci siamo raga Siamo sempre più vicini Al nostro Alla nostra squadra completa Quindi Per ricapitolare un po' la situa Samorot È molto triste È molto triste 21 attacco 37 ecco speciale Non ci interessa Va bene Darumanga è un treno 118 attacco Lei ha un 99 Di attacco speciale Molto più del nostro Lui E lui Vabbè Trova un po' il tempo Che trova Ma è di tipo Buio Terra E ci utile quello Prima di andare avanti Stemiamo un attimo Il nostro Samorot Poverino Con un Antiparalesi Che ce l'abbiamo E sì Il nostro Darumanga Di Tern Volevo dire E Let's go Andiamo Sfidami 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 Ho un Pokédex E quello è il motivo Dei tuoi viaggi Allora Sfidami 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 Boom E' comunque E' efficace Oh no Oh no Oh no Oh no Non lo colpirà mai Non lo colpirà mai E invece sì Attenzione Niente Niente Gli diamo Gli diamo il Il condividi exp Pokémon 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 Ternalitan Ordina Samorot Molto bene Molto bene Vai Sfidami Sfidami Ok 487 Simipur E sarà la funzione D'acqua Di quell'altro Quindi Belli gigante Potrebbe tornare comodo Fatevi fare Una piccola Breve modifica A un parametro Del computer Che ovviamente Non funziona Adesso Perché Un figurato Ci siamo Ci siamo Silent E non abbiamo Più silenzio Perfetto Ci abbiamo Beccato Bene Ups 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 Lotta Cica e sorrimento Fine Elegant Treno Che non sei altro Bello 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 Tranquil Ok Tranquil Noi però Con rocciatomba Per quanto non sia Stub Dovremmo fargli Parecchio male Vero che gli facciamo Parecchio male Con rocciatomba Si Entra Ovviamente Si ma non tantissimo Si ma non tantissimo Perché se vi è un pokemon Tipo roccia Se noi pensiamo Scranocchio Che è Stub Dovrai vedere Dopo Se troviamo un altro Tranquil E a partire Se troviamo un altro Pokemon Tipo Vabbè Altro Pokemon Tipo volante Provare direttamente Con Sì 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 Basta Direttamente con Schranocchio Se li facciamo Bene Allora C'è un Tranquil Al 26 Poverino è piccolo Però Ci sono 10 livelli di differenza Tipo un rocco denti Tipo un rocco denti Facciamo molto male E sta bene Quindi magari Se andiamo giù di Stub Contro la palestra Forse Ragazzi È È devastante questa cosa È veramente Fuori controllo È veramente fuori controllo Questa cosa Spadiglino Bibisù Ok Presto Secondo me Ma Tendiamolo comodo Sfidami 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 Ci vogliono 20 Forse 30 anni Perché un albero diventi grande Perché non lottiamo per far Piacere agli alberi Posso dire che hanno tutti quanti Un po' di problemi mentali In questo gioco In questo gioco Nbc Specialmente gli allenatori Solo si dice psico Bene Non c'è qualcosa di specifico Secondo me contro lo psico E farei un fuoco pugno Ok Ok Mi sa che ne ho già di stop E basta Eccolo Eccolo Allora tu sei tipo drago Tu sei drago Drago Non è molto efficace Ma ti faccio un male tremendo Caspita Caspita Allora Ti mezzano A quanto pare Tra cartiglie Ti mezzano il fuoco E ci sta E ci sta Tiro Non mi sorprende Gli facciamo male Comunque Dannato Ma dannato Gli facciamo male Sono deboli a folletto E poi Ma in caperina Va bene Facciamo un piccolo Sì Prima di Di fare un piccolo ricarico Questa qua sarà la torcello Vero Ok Possiamo andare dietro Non c'è assolutamente nulla dietro Allora Piccolo Recover Per i nostri amici Pokémons Acqua fresca Ne abbiamo una Va bene dai Usiamo gli strumenti che abbiamo Tipo come un Samoroth Bene Non è più acqua fresca Facciamo un'iperpozione Su Damatar Non volevo usarla su Crocoroc Ma volevo usarla su Darmanitan Va bene Buono Fullato anche lui Very good Very 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 good Very very good Torre cielo raga Palisemente E' letteralmente La 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 Torre di Oh mamma mia Di canto Che poi è stata sostituita Mi tornerà in mente Una volta che mi dica In un vuoto totale Sulla cima c'è una campana Si dice che gli spiriti che riposano Si ralleghino quando li sentono In tocchi Lei puliziotto Questa è la torre cielo Un luogo dove riposano In spiriti di pokemon Molto utile il tuo Il tuo commento Va bene Io qua E' letteral Mamma mia Che vuoto La torre di Violon Topoli Non è Violon Topoli Accidenti Dai che lui Dai che lui Eccolo 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 Lui E' il nostro penultimo Main in squadra Litwick Mio caro Litwick Io provo subito Così De potto Con una velox ball De potto Ma Uno Due Tre Che potta Che potta Perfetto 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 Molto bene Molto molto bene Spettro fuoco Spettro fuoco Va bene Dai E no No Allora lui si evolve Per livello A seconda evoluzione Poi bisogna Severe la pietra oscura Pietra nera E la roba del genere Quindi Piccolo change Piccolo change Pokemon Con Gli strumenti Prendiamo Prendiamo il Condividi Expe Da Croc Croc E li diamo Al nostro Litwick Quello qua Molto bene Vediamo che altri Pokemon Troviamo Se vediamo che poi La situa E sempre Litwick E pochi altri E ce ne sono tanti Repellent Max C'è un'energia Indefinibile Che pervade Questo luogo Indefinibile 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 L'idea Psiche È il Jim Uh Lui ha le sembianze Di un Pokemon Leggendario E invece A quanto pare Non lo è Fugugno Lui dovrebbe essere Puro Psico Ma Psico Full Tarmanitan È come se Ignorasse Le difese Del nemico A meno che Proprio Non sia Immune O Diminuisca Il fuoco Proprio Tutto il resto Tarmanitan Tira pugni E distrugge Mamma mia È proprio Vediamo Trenta Mamma mia È spaventoso Tarmanitan È spaventoso Più tre Paracoli Sì sì ma Non mi interessa Non mi interessa Cioè Adesso lui è volante Volante psico No? Rocco denti Giusto per cambiare un po' Non gli No Ne basto con uno Ne basto con uno Quindi Tutto male Non che ne frega niente Facevo poco Facevo poco Pugno Probabilmente sì Ci rifandava giù Andava giù Che botte Che botte Che tira Tarmanitan Mamma mia Mamma mia Che botte Mia 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 Questo è un segnale Che vuol dire Gioca con me Tutti matti Sono tutti matti In Pokémon Sono tutti matti Ma matti forti Anche mi sul telefono È silenzioso Ci picchia Pupa Tierlings Vabbè ma lui Lui è erba Giusto Non so se è erba Ma nel dubbio Focopoglio Vabbè dai È mostruoso È mostruoso Codita Scusa Cambiamo dai Cambiamo Buttiamo Buttiamo Non so se è una bella scelta Croco 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 Codita Secondo me È psico E basta Proviamo dai Proviamo Voglio provare Facciamola in testa Che se no Giusto per far muovere Anche un po' Gli altri Pokémon Poverini Codita Secondo me Nei oscurità Psico Ma è solo psico Scranocchio Boom Eh Era psico Psico Bene Grazie per aver giocato con me Contenta te Contenti tutti ragazzina Io vorrei prendere lo strumentino Che c'è qua Ipermozione L'oggetto Molto bene Sfidami Quando due allenatori di Pokémon Si incontrano La prima cosa da fare È una lotta Sono d'accordo Sono molto d'accordo Exp Level Up Tu Pokémon Ubuntu Pokémon E Volga Volante elettro Volante elettro Bene Sei proprio un bel test Fuocopugno Boom Io credo Che non avremo nessun problema Contro la palestra Contro la caffalestra L'Erdir È normale L'Erdir È normale Proverò un Crocoroc Di nuovo Per testare un po' Come vanno le stab Crocoroc È Buio Terra Quindi Vorrei provare Di nuovo Scranocchio E Dopo per potenza Ok Abbiamo L'attacco diminuito Ci può dare un po' Fastidio Ok Scranocchio E Ok E sì Adesso faccio un bat di terra Quanto male ti faccio Insomma Chiaramente Scranocchio E l'ha buato Molto random Direi che Va molto bene Molto molto bene Io concluderò Con l'acerazione Inaspettato Vediamo se fa un brutto colpo Ok E Pintetta Perfetto Va bene Bastava l'acerazione Non era necessario Però Adesso fa un per due È super fissile Ho andato Tipo per quattro Credo Raddoppiata la potenza Della mossa Perché lui era Debole a Coso Va bene Dai dai Era mollito Non dire fesserie Ok Va bene Incontro casuale Lo accetto Un altro litwig Ok E Tra l'altro Tra l'altro Fermi un attimo Perché potrei aver fatto Una sciocchezza Allora Aspetta Fermi 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 Secondo Visto che mi è venuto in mente Perché potremmo aver catturato Un litwig Che fa schifo Ok Quindi Potremmo tentare Di catturarne un secondo Ultrabo Ne abbiamo Non vedo Per chi Non catturarne un secondo Perché non ho guardato Le statistiche Di litwig Buono Sì 729 Cambia poco Cambia poco Va bene Non voglio dare lo soprannome Leitwig E mandiamolo Al box Pokémon Come si è messo Tu con Le info Fai molto schifo Non mi Fatto bene Fatto bene A prendere un altro Ora Fatto bene A prendere un altro E quasi quasi Ne prendiamo un altro Ancora Se lo troviamo Conviene Conviene sì Conviene sì Non avendo la certezza Di cosa abbiamo preso Perché sarebbe Sarebbe opportuno Visto che adesso Abbiamo la possibilità Di prenderlo con L'attacco speciale app Che aumenta L'attacco speciale Di volta in volta Che fa il level up Non le sono le nature Le nature Non le imparerò mai Ma almeno ho capito Il rosso e il blu Da controllare quello Delle statistiche E Prodenti Dai cambiamo un po' Boom Perfetto Molto bene Molto bene 506 640 Va bene No no Va bene I dialoghi sono totalmente Irrilevanti Fuoco fatuo Ok Cos'è? Spettro Come mossa Mi sembra Mi sembra che sia Spettro Altro litwig Perfetto Ho come l'impressione Che qua Troveremo Solo litwig Il che va Molto Molto bene Cattureremo un po' Lotta Rocco denti Direi come prima Questo è interessante Mar del pugno Faccio Scranocchio Scranocchio Succede un casino Lo buttiamo giù Arracciatomba Proviamo Ok 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 Potremmo già provare A catturarlo Così Pokéball Ultraball Tra l'avoco Amora sotto Ma ovviamente Non l'ho Pista Dito rapido Uno Due Tre Bene E siamo a tre Litwig Molto bene Molto bene Tanto uso a livello 29 No Vai al box Vai al box Verigutto Verigutto Invit Saliamo le scale Piano Di sopra Altri allenatori Buongiorno signorina Adesso Indubbinarò La tua vera natura Tu Sei un allenatore Di Pokémon Sei un Veggente Sei un Incredibile Veggente Adelaide Chiodoroide Musharna Attenzione Abbiamo brutti Ti ricordi Noi con Musharna Mushna Musharna Vero Andiamo giù Con Fuocopugno 32 Tra l'altro Ok Infortuncanto Non so cosa faccia Proteggia Sui brutti colpi Accidenti Va bene Rubo denti Boom Bene Musharna Capò Io contento Va bene Ok Uno solo Easy Sì Intanto 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 facciamo soldi A palate Grazie al Moneta Moneto Vai col prossimo Vai col prossimo Quindi meglio Di un'intensa lotta Da per soddisfare Le anime che riposano qui Ok Va bene Va Molto bene Ippolito Questi nomi Incredibili Yamask Spettro Allora Tu sei Debo luccio Mi ricordo Semplicemente Il mio era Molto debole Cosa succede Se faccio così Ti spacco Ti spacco Fortissimo Va bene Yamask Boom Va bene Lì Tweak 31 Ma non importa Anzi Sarebbe meglio Effettivamente Cambiare Golet È quello che abbiamo visto Prima Quindi È D'evoluzione È quello che abbiamo visto prima Quindi Ci ho dibutto un crocoroc Con scranocchio Secondo me Distruggiamo tutto Spacchiamo in due Il mondo intero Uno Ops Ops Però Sei psico anche te Vero che sei psico? Vero che sei psico anche te? Eh sì Sei psico anche te Crocoroc 37 Molto bene Molto bene Molto bene Attacco più tra Bene Ok Conviene sì che togliamo Il condividi ESP Da Litwick Visto che abbiamo capito Che non ci sarà molto utile Per le sue statistiche E speriamo di Aver pescato Degli altri Litwick Più interessanti Contividi ESP Grazie Molto bene Avanti prossimo Salve signorina È una signorina vero? Sento gli spiriti Arranti Che dicono Voglio ancora Luttare Quindi Ufficiale Che i Pokémon Poveretti Possono morire Raggiacano Ovviamente Il Pokémon Blu Con il Radicate Di blu Però Litwick Vai Termanitan Allora Termanitan Pirulangio Forse Fisico Ti farò Scranocchio Boom Eh sì Eh sì Molto bene Molto bene Svobat Io credo Che tu sia Tu sia psichico Tu sia psico Anche tu Psicovolante Mi viene da dire E il rasoio Non dovrebbe Il protocollo Non era previsto Psicovolante Vado a provare Samorot Vado a provare Samorot Sono curioso Sono un po' curioso Un bel Come chi l'ama Calmamente Vabbè Non mi interessa Ma benissimo Io ti faccio Un attacco Fisico Molto bene Molto bene Molto bene 1171 Però Povero Crocoroc Inaspettato Mi spiace Poverino E Rimedi Revitalizzante Usa Sul nostro Poverino Povero Cucciolo E Ti farai anche Un'inverbozione Farà anche Meglio Molto bene Molto 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 bene Allora Questi li abbiamo Fatti Lì Non c'è niente Qua c'è un altro Signorino Lì c'è lo strumentino E lei mi cura i Pokémon Probabilmente Sono che sapere Della fine del mondo Ma per ancora nel buio Se proviamo a lottare Forse ci capirò qualcosa Zekrom Che distrugge il mondo intero Di leggi Psiche Tuosin O Rivoluzione di Quello che abbiamo in squadra Perché non mi ricordo mai come si chiama Fuoco carica Lo accetto Ho visto che in teoria c'è la signorina che dovrebbe curarci i Pokémon di sotto Disintegrato Sì va bene Però il contracolpo è tanto È veramente tanto il contracolpo Bisogna stare un pochino attenti Spettro targa aumenterà le mosse tipo spettro Mi viene da dire Ho corso apposta per spawnare un Litwick Non è un Litwick È Jim Non ha evoluzioni Non credo che lui abbia evoluzioni Un livello Un fuoco carica di nuovo Qualche exp in più Non una roba esagerata Ma qualche exp in più Lo facciamo E poi ci curiamo qua sotto 126 Vale neanche la pena Va bene Signorina Eccolo qua Benissimo Sta bene Sta bene Sta bene Vediamo se anche sto qua è immune alle mosse tipo fuoco Rocco denti Ok Ombra notturna Ok Allora Pokémon La rifacciamo con È un croc-croc È un croc-croc Amato croc-croc Un rocciatomba Sì Rimandiamo a croc-croc Gli facciamo un rocciatomba Disclusiva Va bene Gli facciamo un rocciatomba Gli passiamo il pipì Perfetto 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 Molto bene Molto bene Ultra Ball E adesso dovremo portarlo a casa Dai lo portiamo a casa E siamo a Quattro O tre catturati dopo il primo Due Tre Perfetto Forse tre Tre ne abbiamo Molto molto bene Molto molto bene Non voglio dare un soprannome Io voglio solo Curarmi la squadra Per poi Salutarvi Sì grazie Oh no Oh no Non mi aspettavo questa cosa Oh no Va bene Va bene Va bene Ok Questa è stata inaspettata Normalmente è un fuoco pugno Buttare giù in un colpo Perfetto Eccellente E Allo momola Non ho idea di chi sia Non ho assolutamente idea di chi sia Allo momola Mi viene da dire che sia la rivoluzione di Di quello Coso Ma non c'entra nulla Ok Ma sì no L'avevo già visto Ma non Vi dico Minimamente Minimamente Da sua esistenza Ci farà tanto male Hidropulsar Tanto male Ok E allora E allora Si fa così L'elegant Tocca a te Chi è meglio di te contro un pokemon di tipo acqua Hidropulsar Ricami BV Sai Infermiera Grazie Grazie Inaspettata Questa lotta Ma Piacere Signore e signore Ragazzi e ragazze Salviamo E ci vediamo A un prossimo video Vi ringrazio come sempre Del supporto Che vi state dando Ricordatevi un mi piace Iscrivetevi al canale E entrate nel gruppo telegram E ci vediamo A un prossimo video Un caloroso abbraccio Del vostro Car Giulio Ciao